Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Sono piena di pay su sto giacchetto, cioè prende qualsiasi cosa appena lo guardi. Comunque, allora, aspettate che mi sbardo un attimo. Sono appena stata a rinnovare la famosa carta d'identità, ma aspettate perché plot twist. Pensate qua quanto io sono scema. Non scadeva minimamente, non ce n'era bisogno. Perché in realtà io l'ho fatta già quando ero maggiorenne, quindi durava dieci anni. Perché ero convinta che ne duresse cinque, lo sa solo, non lo so, neanche il signore lo sa. Quindi, cioè, mi scadeva nel 2027, io sono andata là, quello mi fa. Ma perché la deve rinnovare? E io, perché non scade tra un po' lui? No, scade il 2027. Vabbè, ormai sto qui, gli occhiali li ho tolti, la foto è cambiata. Senti, fammela. Quindi, quindi sì. Però ci sono rimasta veramente... Ok, cioè, Ilaria, tu devi un attimo riprendere in mano la tua vita. Cioè, non puoi essere così svalvolata. Detto ciò, quindi sì, l'ho fatta. Alla fine ho messo questa fotina che mi sono scattata ieri da sola a casa. Che una parte è più buia dell'altra e questa cosa mi disturba tantissimo. Però, vabbè, ormai questo è fatto. Quando l'ho caricata sul sito ieri sera mi sono accorta poi di questa cosa, di un lato e dell'altro, e non me l'ha fatta più ricaricare. Quindi, vabbè. Terremo questa bellissima foto per i prossimi dieci anni. E quindi tra una settimana la devo venire a ritirare. In tutto ciò dovrei andare, in teoria, a far pulire la macchia. Perché non so se notate, ma c'è una quantità di schifezze non indifferente. E non mi vergogno di farla vedere perché tanto... Insomma. Cioè, guardate qui. Quindi credo che, instead of doing that, mi darò alla spesa. Cioè, più che altro devo comprare le cose per fare la mia colazione, il mio fit tirami sulla mattina, che ormai io infissa più totale. Non mi ricordo se vi ho fatto vedere la ricetta anche qui su YouTube nei vlog, però ve la riprendo nel caso. O comunque trovate tutto il resto su TikTok. Cioè, ultimamente mi sono andata ai TikTok. Fa che ieri non so neanche quanti ne ho registrati, che a un certo punto pensavo di aver già registrato le stesse cose più volte. Vabbè. Mi muovo, visto che è quasi mezzogiorno. Poi, vabbè, stamattina non mi sono truccata. Non mi sono neanche fatta la skincare. Infatti c'è una pelle schifosissima. Perché ieri è tornata mia sorella. Io stavo facendo tardi per venire qua all'appuntamento. E lei era in bagno chiusa. Quindi ho detto, senti, la skincare la facciamo dopo. Quindi sono uscita così. Ora, centro commerciale, visto che stavo un po' vicino. Vado a prendere queste due cose che mi servono al supermercato. Tra l'altro oggi sono uscita tutta brandizzata. E non so se sentite il mio zainetto dietro. Probabilmente ieri mi è arrivato un pacchetto d'Aliexpress. Anche lì vi faccio sempre vedere tutto quello che mi arriva su TikTok. Mi è arrivato un portachiavi troppo carino di Shuki. Guardate se non è carino. Non mi ero mai resa conto di quante versioni ci fossero dei Digestive. Io ho sempre preso questi classici. Oppure quelli sottili che però sono questi qua in teoria. Col cioccolato sopra. Questi qua ecco col cioccolato fondente. Che sono buoni anche quelli eh. Però ovviamente questi sono meglio. E c'è la confezione normale. Vabbè questo qua è il pacco, quello doppio. Poi c'è questo con l'avena. Quello con le cioccole e le chips è all'avena che deve essere spaziale. Quelli integrali, cioccolato fondente fatti così. Infatti mi sa che a questo giro, visto che sono anche in offerta, prendo sia questi integrali che questi qua con le cioccole e le chips. Ho fatto un ordine l'altro giorno, qualche giorno fa insomma, su Cocodive. Che è il sito che rivende anche un po' di queste cose di BTS. E in realtà volevo prendere soltanto il Deacon. Questo giornale qui. Vedete che ha la copertina fatta in questo modo. Questo è uno dei miei photoshoot preferiti di Jonggu. E poi vedete dentro ci sono tutte le altre. Infatti è doppia versione perché c'è questa copertina e questa qui. Quindi proprio bianco-nero totale. Ma è pieno di cose dentro. Ci stanno queste cartoline. Queste qua vedete che cambia anche l'immaginina. Poi ci sta il K-Chain. Fatto così, sempre bianco-nero. E poi le photocard. Che adesso vi spiego la questione photocard. Perché io non volevo iniziarle a collezionare. Però diciamo che è successo. Poi ho preso questo profumino per la macchina. Perché lo volevo prendere quando stavamo a LA. Mi pare Alessia aveva preso quello di Shuki. Però non ci stavano più. E quindi ho dovuto ripiegare. Cioè guardate quanto è carino. Non so poi che profumino ci metto una volta che è finito. Però vabbè. E poi ho detto. Ma ti pare che non compro le gomme qua della Xylitol per BTS? Però c'era il set misto. Quindi non sapevi che ti poteva capitare. Potevi scegliere solo il colore della confezione. Poi si vede che hanno visto. Senti, questo ha comprato il Deacon di Jong-Ku. E il Kuki là. Quindi non so se è stato il destino. O qualche persona molto carina. Che mi ha voluto proprio far uscire Jong-Ku. Però sono molto contenta. Anche perché è una delle poche cose che ha fatto quando aveva i capelli viola. Tra l'altro non avete visto che cosa ha fatto al mio computer. Vero ragazzi? Cioè ormai in basi noi, vero? Quindi ora devo mettere a posto qua questa la cartazza che ho tirato su. E poi appunto la questione fotocard. Io mi ero sempre detta no. Perché è inutile spendere soldi su pezzi di carta. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, sono pezzi di carta. Prendi un album, non so se vedete lì c'è Map of the Soul 7. Che mi piaceva troppo la fotocarda di Black Swan. Quindi alla fine ho trovato una persona che vendeva tutto il set. E ho comprato tutto il set. Poi trovi quell'altra che è carina. Cioè, fatto sta che sono un attimo inguagliata in questa cosa, in questi giorni. Quindi appena mi arriveranno poi ve le farò vedere. Non era una cosa necessaria. Soprattutto perché alcune costano veramente folia. Ogni tanto ci faremo questi piccoli regalini. Tanto ripeto, una passione ho loro. Quindi tutti i miei soldi sono... Quando io faccio un lavoro, quando faccio qualsiasi cosa che può procurarmi, diciamo, soldi. Che è brutto da dire, però nel senso si deve lavorare nella vita. Ho solo un pensiero. Fare tutto in funzione di loro. Che siano concerti, che siano cose da comprare. Quindi va bene. Ormai ho accettato questo mio destino. Pranzetto al volo. Che poi devo volare in palestra. Allora, nel mentre sono arrivata in palestra. E c'è stata anche la live di Hobie. Perché oggi è il suo compleanno. Il compleanno di J-Hope. Quindi sono arrivata prima. Me la sono guardata per un pezzo. Però adesso ho dovuto chiudere. Quindi vi metto qualche clip che ho registrato con la registrazione schermo. Ovviamente ha chiamato JK. Ovviamente ha chiamato V. E quindi niente. Adesso mi vado ad allenare. Che bello. Ciao. Vedete che vengono messi anche qua. Saluta. Saluta. Io l'ho messa tutta da spontanea volontà stavolta. Io ho detto che vi faccio pure il balletto. E' intanto fuori si fa buio. Mi ero quasi scordata di mettere in macchina il profumino. Questo qui che mi è arrivato oggi. Vedetevi se non è troppo bellino. Certi io ho anche questo che magari è un po' meno carino. Però ci sta. In questo video oggi c'è un ospite speciale. Mister Amelie. E' vero? E' vero. Dici ciao. Quanto sono bella. Sapete io non sono un tipo da gatti. Ma comunque Amelie è molto graziosa. E' molto coccolosa. Vuoi che ti metto il lattuccio in quel piattino? Vabbè questa è casa dei miei zii. Sono in settimana bianca. E' vero o no? E quindi chi è che fa la cat sitter qui? Allora fammi aprire. Qua abbiamo il tuo lattuccio. Oggi vuoi questo? O vuoi quello in bustina? Vuoi questo? Senti che fusa. Tra l'altro sono in condizioni pessime. Non si vede niente. Mi sa che per tornare c'era un traffico che non avete idea. No l'ho pure aperto male. Quindi ci ho messo un'eternità per tornare a casa. E' tardissimo. In più oggi è giovedì. Quindi ovviamente stasera c'è Masterchef. Anche se io in teoria avrei dovuto montare un video. Perché poi domani mi do sviare presto. Ci devo andare al canile. Quindi è veramente tutto bellissimo. Mettiamo il piattino alla princess. Eh? Dai vai. Che fai? Fai la timida? Brava. Poi ovviamente pensate che sia finito qui? No. Dobbiamo anche vedere se ha fatto qualche danno qui. E ovviamente questa evito di farvela vedere insomma. Che fai? E questa è la parte che... Vai vicina alla tevatta. L'ha attaccata. L'ha attaccata. Prendila. Non c'è più acqua. Quasi. Ma a Maroc. A Maroc. Alla fine si è fatto super 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 tardi. E infatti devo assolutamente andare a dormire perché domani lo sveglia prestissimo. Ho fatto mille cose una volta tornata a casa. Pranzato in velocità. Anzi. Ecco. Già ho detto una cavolata. Ho cenato. Ho cenato in velocità. Poi stasera c'era MasterChef. Quindi è tutto di corsa. Dovevo fare delle storie. Mandare delle cose. Insomma. Cioè io non so più a chi dare i resti. Io non capisco come si volatilizzino le mie giornate. Ho detto ciao quindi adesso da dormire. Noi ci sentiamo domani con un nuovo video. Ora non so quando inizierete a vedere questi però spero poi di riuscire a rimettermi in pari. Perché ancora il vlog è quello della montagna che devo editare. E appunto spero di farlo domani. Quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao. Ciao.